Rivolta tra gli operatori del turismo e non solo. Anche i clienti abituali della compagnia low cost Ryanair storcono il naso. Non poter viaggiare più a prezzi ridotti dagli aeroporti pugliesi a quelli europei non va proprio giù a nessuno. Il governatore Michele Emiliano ha rinviato il via libera della convenzione per il 2015 con Ryanair che prevede il pagamento di una tranche annuale da 13,8 milioni già approvata nel 2014 a seguito di un rinnovo di 5 anni perché vuole vederci chiaro. L'inchiesta della magistratura barese e un ritardo sulle procedure per inserire la voce di spesa nel bilancio avrebbero infatti spinto Emiliano ad un tardivo approfondimento. Questo nonostante la pratica sia stata istruita, come nel 2014, da Gianni Giannini, assessore ai trasporti in giunta con lo stesso Emiliano al comune di Bari. È impensabile rinunciare ad una rete di collegamenti aerei così capillare, attacca Francesco Caizzi, presidente regionale di Federalberghi, perché gli operatori hanno pianificato investimenti tenendo presente l'aumento dei flussi di turismo in coming, soprattutto stranieri. Se è in grado, Emiliano trovi nuovi vettori ma non penalizzi la Puglia. Ryanair resta un vettore fondamentale per gli aeroporti di Puglia. Nel 2015 la compagnia irlandese ha movimentato tra Bari e Berindisi 3,1 milioni di passeggeri, oltre il 50% dei 6,1 milioni di passeggeri totali. Conte alla mano, a Bari, Ryanair sviluppa 1,9 milioni di passeggeri su poco meno di 4 milioni, mentre a Berindisi 1,2 milioni su 2,2 milioni. E paradossalmente senza l'apporto dei low cost, lo scalo di Berindisi sarebbe destinato alla chiusura.